Diabete, parliamoci, due giorni in cui i diabetologici d'Italia si incontrano per parlare di un argomento di una patologia abbastanza importante e alquanto diffusa. Sì, questa è la quinta edizione di questo congresso. In questi due giorni abbiamo affrontato il diabete non tanto come glicemia ma come malattia sistemica che interessa tutti gli organismi, che non riguarda soltanto la glicemia ma riguarda il cuore, il cervello, i reni, ovunque arrivi lo zucchero, ovunque c'è la patologia a carico del diabete. In questi due giorni abbiamo affrontato anche le tematiche correlate al diabete, dall'obesità alla nuova terapia sia nella tecnologia sia nella gestione della malattia e nell'integrazione tra territorio e ospedale. E' uno stretto rapporto tra specialisti e medici di medicina generale e altri operatori del sistema sanitario. Qual è il messaggio che viene fuori alla fine di questo incontro? Dai dati emessi e dalla collaborazione con i medici di medicina generale si è visto la carenza che c'è nella gestione di questa malattia e nelle possibilità di poter raggiungere dei centri specialisti. C'è stato un'integrazione, un progetto nuovo, l'integrazione diretta con i medici di medicina generale si è investita a partire dalla prevenzione, dall'educazione, nella gestione delle malattie e nell'andare a vedere chi possono essere i predisposti a diventare diabete. Perché come sappiamo la popolazione diabetica nota è di quasi 5 milioni di abitanti, ma c'è una prospettica che parliamo di 8 milioni di abitanti. C'è un 30% dei pazienti con diabete sommesso di cui non sappiamo. Abbiamo chiesto aiuto e collaborazione agli altri medici di medicina generale e a chi si occupa della salute di fare uno screening per andare sulla prevenzione. Farmaci e nuove tecnologie, cosa emerge? Da questo importantissimo congresso è emerso che adesso noi disponiamo tutta una serie di nuovi farmaci che noi chiamiamo innovativi, che sono dei farmaci che non servono soltanto per la glicemia, ma che è il paziente diabetico che è un paziente a forte rischio cardiovascolare e quindi cosa vuol dire? Vuol dire che può sviluppare delle complicanze cardiovascolari potrà utilizzare questi farmaci che servono per il diabete, quindi per la glicemia, ma sono dei farmaci che migliorano quello che è il cuore migliorano sicuramente il reno, cioè sono dei farmaci che proteggono il nostro paziente dalle complicanze. Questo fondamentalmente per quanto riguarda il paziente affetto a diabete tipo 2, ma adesso abbiamo a disposizione, di questo abbiamo ampiamente parlato, per i pazienti affetti a diabete tipo 1, quindi diabete giovanile, insulino privo, della possibilità di utilizzare microinfusori. Adesso ci sono dei microinfusori di nuovissima generazione che sono in grado di prevenire le ipoglicemie, che sono in grado di calcolare quanta insulina ha bisogno il paziente e quindi senza eccessivi controlli da parte del paziente, perché questi microinfusori parlano con il sensore che legge la glicemia, sono in grado di determinare la quantità di insulina che devono erogare. E non dobbiamo dimenticarci che disponiamo, per quanto riguarda la tecnologia, dei sensori che permettono di leggere la glicemia non soltanto ai pazienti affetti a diabete tipo 1, ma anche ai pazienti che hanno il diabete tipo 2 e che praticano terapia insulinica, perché la regione Sicilia è l'unica fra tutte le regioni italiane che gratuitamente distribuisce questi sensori ai pazienti affetti a diabete tipo 2 e che praticano almeno una volta al giorno terapia insulinica. Quindi da questo congresso è emerso che ci sono tutta una serie di farmaci innovativi e una tecnologia all'avanguardia. Obesità è un fattore importante nella patologia? Assolutamente sì. Oggi noi metabolisti facciamo particolare attenzione al fenomeno obesità, fenomeno che ormai in Italia è assolutamente incidente, rappresenta un problema sociale particolarmente rilevante che investe in tutto il mondo oltre un miliardo di persone, per cui chiaramente per noi medici, per noi metabolisti è fondamentale porre grande attenzione nei confronti di questo fenomeno, individuare quali possano essere le strategie volte ad una migliore gestione di questa problematica, individuare anche percorsi terapeutici che possono essere offerti ai nostri pazienti sia che siano soggetti adulti sia che siano bambini, quindi in base anche adolescenziale, che necessitano di un'attenta gestione, di un'attenta integrazione tra quella che è l'azione svolta nell'ambito sociale nel territorio e quella che è l'azione svolta da parte di noi medici. Endocrinologia, anche questo è un aspetto importante? Assolutamente sì. Faccio i complimenti agli organizzatori, nello specifico all'amico Mario Rizzo per aver posto anche attenzione nei confronti di quello che è un altro fenomeno estremamente rilevante che è rappresentato dalle malattie endocrine, malattie endocrine sia da un punto di vista andrologico, abbiamo visto anche interessanti interventi da parte di universitari di livello nazionale e porre attenzione su quella che è la correlazione tra le malattie andrologiche e le malattie a sfondo metabolico e soprattutto anche le problematiche riguardanti la tiroide e tutto quello che si può effettivamente correlare tra le disfunzioni della ghiandola tiroide e quelle che può essere anche le condizioni di obesità e anche quelle condizioni che possono favorire anche l'evoluzione del diabete stesso.